Sull'ospedale San Camillo di Mesagne potrebbero esserci delle novità nell'ambito di un sistema ospedaliero decentrato. L'ospedale di Mesagne, declassato negli anni scorsi a semplice presidio territoriale di assistenza, ha dimostrato la sua utilità in piena emergenza Covid-19. Il deputato Giovanni Luca Resta del Movimento 5 Stelle attacca i sostenitori d'Italia alla sanità pubblica, che hanno dettato le politiche sanitarie nel decennio scorso. Il San Camillo, insieme agli altri ospedali della provincia, quelli di Fasano, Cisternino e Cile Messabica, si sono dimostrati fondamentali, ha detto il deputato, per dare una risposta alla comunità in questa emergenza. Ospedali declassati, come quello di Mesagne, dovranno diventare una presenza stabile nel sistema sanitario brindisino. Per la Resta occorre fare tesoro di questa esperienza, perché non solo il Covid-19 non è ancora stato debellato, ma perché solo gli investimenti sulla medicina di territorio possono attivare quella prevenzione necessaria per garantire modelli di salute elevati. Con il Cura Italia sono stati messi a disposizione importanti risorse per il sistema sanitario nazionale. Ciò, ha precisato il deputato mesagnese, per superare le deficienze causate da un'incauta politica ragioneristica che ha in pratica ispirato tagli alla sanità pubblica, sovente accompagnati anche da trasferimenti di risorse verso quella privata. La lotta contro il Covid-19 non è conclusa, prosegue il deputato. Si sposta ancora di più nel territorio per frenare i contagi, individuare per tempo gli ammalati, compresi gli asintomatici, e impedire che il virus sia importato da fuori. Avere un sistema ospedaliero territoriale decentrato ed efficiente è una condizione fondamentale per accogliere in ragionevole sicurezza migliaia di turisti, consentendo così di dare ossigeno alla nostra economia e alle nostre imprese, ha proseguito il deputato. Aresta, che ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del Comune di Mesagna e del Sindaco Matarelli, circa l'impegno annunciato per il mantenimento e la valorizzazione del San Camillo, più in generale della sanità pubblica di territorio, ha confermato il suo contributo, affinché i nuovi ed imminenti ulteriori provvedimenti del Governo si muovano nella direzione di rafforzare il sistema sanitario pubblico e al contempo dare un sostegno reale all'economia e ai cittadini in difficoltà.